buongiorno popolo rosso nero buongiorno a popolo del bandito buon lunedì pomeriggio oggi c'è una novità partiamo con una nuova rubrica le zazza barzellette e si e si perché voi dovete sapere che a roma c'è il direttore di un quotidiano che in quanto quotidiano di roma si diverte a fare il direttore sportivo della roma cioè lui mette in piedi le trattative e aveva l'aveva già fatto con sulle con sulle perché ha condotto lui la trattativa per sulle alla roma e addirittura arrivando a ipotizzare e che la juventus avrebbe potuto mettere sulle nell'under 23 per punirlo perché non accettava i trasferimenti chiesti da giuntoli peccato che per regolamento sulle non avrebbe potuto andarci nell'under 23 ma non importa per zazza l'obiettivo è quello che conta lui dirige lui orchestra lui organizza lui determina e allora e oggi cominciamo la rubrica delle zazza barzellette quindi state lì non vi muovete perché oggi ci divertiamo e ci sganasciamo dalle risate un like al video se anche voi siete felici di sganasciarvi dalle risate la campanella per le notifiche iscrivetevi al canale stiamo viaggiando alla grande dobbiamo continuare arriviamo presto a 20.000 e naturalmente vi chiedo un like anche per e qui sono serio il più grande sportivo di tutti i campi novak jokovic grande nole grande nole grande nole allora torniamo a divertirci un po dopo questo momento di serietà dovuto per il rispetto al grandissimo alla grandissima leggenda neanche campione la grandissima leggenda serba partiamo con le zazza barzellette allora voi dovete sapere che c'è un giocatore a roma che l'anno scorso ha segnato forse un gol se non sbaglio ma poverino perché è stato infortunato ha avuto un grave infortunio per menisco legamenti insomma un infortunio grande grave poi lui è un giocatore di fisico possente malgrado alcuni milanisti pensino e si è alto un metro e 85 pesi 80 kg in realtà no lui è alto 1,94 e insomma anche il suo bel peso da portarsi dietro quindi insomma fatica è un giocatore che è stato messo da parte dalla roma è stato comprato al posto suo un ucraino capo canoniero del campionato spagnolo tale dobbic tant'è che il procuratore di dobbic addirittura gli ha affibbiato subito la maglia numero 9 poi è diventata la 11 perché si sono resi conto di insomma di essere un po fuori dalla realtà però insomma insomma si devono liberare di tommy ebram no un giorno arriva il milan che avrebbe bisogno di un attaccante che sostituisce morata arriva a roma e dice ma va noi saremmo interessati a ebram al che i dirigenti della roma facendo finta di di interesse invece che ci tengono molto a questo giocatore no cominciano è ma noi sai noi è un giocatore importante per noi è un giocatore fondamentale e non lo vendiamo per meno di 35 milioni allora anche furlani mi sembra un po tanto 35 milioni mi sembra un po esagerata per un giocatore che lo scorso anno praticamente non ha giocato ha fatto un gol è tutto da verificare se ha superato o meno questo problema a girocchio non ha tanto mercato perché se ancora qui a roma e nessuno si sta diciamo impegnando molto per prenderselo mi sembra un po tanto 15 milioni però 35 milioni però potremmo darvi sala maker che è un giocatore che insomma bologna non ha riscattato e per il momento noi siamo coperti sugli esterni e al che il dirigente della roma sentendo il vero direttore sportivo della roma quello che veramente comanda il zazza chiede a zazza gli dice zazza cosa facciamo prendiamo cafor e gli diamo e gli diamo tommy ebram al che zazza famoso odiatore della c milan famosissimo odiatore della c milan dice sì però facciamo così ti dico io come si fa abram vale 30 ebram vale 35 milioni e sala maker vale 10 milioni a che furlani rimane impietrito e gli dice ma come cioè sala maker che ha fatto una stagione fantastica a bologna è ricercato dalla juventus in premier insomma potrebbe anche restare da noi perché si sta si sta comportando benissimo è un giocatore giovane sano forte e che ha esperienza in champions league viene da una stagione bellissima bologna 10 milioni e il tuo rotto forse aggiustato ma non si può non si sa dobbiamo provarlo dobbiamo testarlo dobbiamo vederlo 35 al che furlani si rifiuta naturalmente e dice no trattiamo su altre basi trattiamo su altre basi al che il dirigente della roma come al solito chiama il suo capo zazza dice zazza questi no non ci stanno 35 e 15 non ci stanno cosa facciamo allora il grande direttore la grande mente delle trattative della roma l'uomo che pensa di sapere tutto quello coi capelli fluenti che giudica i ballerini abballando sotto le stelle ha un'altra idea delle sue un'altra idea meravigliosa se non gli sta bene sarà me che 25 milioni facciamo così ocafor e sala maker per tommy ebra perché furlani direi che rappresentando bene tutto il mondo milan si fece anche lui una grandissima risata e dando una pacca sulle spalle al buon zazza salutava tornava a milano facendo tanti auguri alla roma al suo rosso di bilancio e dispiaciuto per tommy ebram costretto a rimanere nella palude romana dove non lo vogliono eppure lo valutano 35 milioni al che però furlani ha un'idea geniale ma ragioniamo come zazza come zazza come il direttore zazza ragioniamo come lui proviamo a fare una proposta al manchester city al milan manca un attaccante diciamo un attaccante che possa alternarsi con morata forte diciamo della ammirato dalle proposte di zazza furlani rientrando a milano convoca moncada ibraimovic si sentono telefonicamente con fonseca e raggiungono un accordo dopo un po di discussioni perché c'era chi era d'accordo chi no chi era dubbioso però alla fine tutti raggiungono un accordo chiamano il manchester city e offrono pobega in cambio di rodri e foden torniamo seri cioè se pensano veramente cioè questi probabilmente guardano troppi video di silvestri cioè i dirigenti delle altre società i direttori dei giornali probabilmente guardano troppi video di silvestri e sono convinti veramente che abbia abbiano a che fare con dei deficienti no con con di gente non troppo a posto di cervello perché è l'unica spiegazione che posso dare a queste notizie l'unica spiegazione che posso dare questa cioè che abbeverati alla fonte del vate pensino che siamo cioè che dirigenti del milan siano così diciamo poco sani di mente poco poco lucidi poco lucidi le trattative no e per cui è l'unica spiegazione che tornando seri io direi una cosa visto che per noi è così difficile e probabilmente il fatto di avere liquidità per fare gli acquisti porta le altre società a fare dei ragionamenti assurdi veramente allora guardate anche a costo di rischiare qualcosina io io lancio la proposta poi voi nei commenti mi dite cosa ne pensate questa non è una barzelletta una cosa seria io lancio una proposta ditemi voi nei commenti poi se siete d'accordo se non siete d'accordo se vi sembra un rischio se se non lo so ditemi voi io ve la lancio poi attendo cosa mi dite nei commenti a noi serve assolutamente in questo momento dopo il preso emerson royal a noi serve assolutamente un mediano ok allora se il monaco ragiona e ci da fofanà molto bene siamo a posto prendiamo fofanà come mediano il più presto possibile se il monaco non ragiona io direi forti dell'accordo con fofanà parcheggiamolo al monaco per questa stagione e ce lo portiamo a casa l'anno prossimo a zero però con un accordo già già forte no non che poi arrivano occhio di lince compagnia bella alzano ingaggio alzano la commissione e te lo portano via no con un accordo già forte con un accordo già no ci siamo capiti no come fa occhio di lince se può farlo occhio di lince possiamo farlo anche noi se può farlo occhio di lince possiamo farlo anche noi e teniamolo lì parcheggiato per un anno sempre che il monaco non non decida e non dar retta al dirigente italiano a cui stiamo molto antipatici evidentemente e prendiamo un mediano forte abbiamo i soldi per prenderlo con 20 25 si può trovare un mediano forte da prendere si può trovare per quanto riguarda le altre trattative allora ebram gli facciamo tanti saluti tanti saluti alla roma tanti saluti a ebra anzi alla roma diciamo una cosa e siccome siamo buoni siamo magnanimi ti possiamo prendere ebram in prestito con diritto prestito con diritto lo valutiamo quest'anno se si è ripreso fisicamente te lo riportiamo in forma te lo riportiamo forte e poi prossimo anno decidiamo cosa fare massimo della concessione che possiamo farti capito zazza massimo della concessione che possiamo farti zazza e ci stanno ci portiamo a casa ebram in prestito con diritto non ci stanno guardate fate voi io ho una proposta ce l'ho prendiamo franceschino camarda ce lo portiamo su prima squadra tanto può fare la spola tra milan futuro e prima squadra se non ci sono problemi fisici di morata e di jovic ce la giochiamo con morata con jovic con ocafor con ocafor che può visto che tutti si sono immolati per non fare lo scambio alla pari ocafor a ebra e allora sfruttiamo lo stava forna sfruttiamolo possiamo sfruttarlo come terza punta anche era l'evenienza diamo la chance franceschino camarda in più mettiamo anche un italiano che può andare bene nelle liste per quanto riguarda il mediano ho detto o fofanà o chi per lui prendiamone uno bravo forte perché è lì che ci manca per dare solidità al centrocampo e siccome per samasic io so che alla fine sarà sempre la stessa storia quindi noi andremo dall'udinese l'udinese a noi non farà il giocatore in prestito e il pagamento l'anno dopo a babbo morto come aveva gentilmente concesso l'anno scorso a occhio di lince a noi non lo farà a noi l'offerta improvvisamente salirà 30 milioni se va bene se non 35 e scambi no 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 senza contropartite tecniche pagare 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 e allora sapete cosa vi dico salutiamo anche il buon samaric e la buona udinese e noi lì aggiustare come trequartista insieme a pulisic o insieme a love to chic insieme a reinders volendo ci mettiamo il buon liberali più liberali e più camarda e meno trattative come le potrei definire le zazza trattative noi è evidente che in italia non possiamo comprare è molto evidente e allora usiamo i nostri camarda e liberali in prima squadra è l'unico scambio che posso accettare anche perché penso si potrebbe fare con una controparte altrettanto seria come noi da questo punto di vista e non legata a questo momento a un sistema truffaldino e l'unico potrei fare solo uno scambio alla pari alla pari parissima salamecker con chiesa nel caso si voglia spostare pulisic in trequarti insieme a liberali quindi per avere leao e okafort a sinistra ciuqueze e chiesa a destra pulisic e liberali trequartisti dietro morata jovic e all'occorrenza okafort e camarda mi raccomando però il mediano il mediano il mediano ci serve ovviamente dobbiamo prenderlo all'estero ovviamente almeno che non ci andiamo a portare a casa un po rischiandoli però rischiamo che ce frega ci andiamo a prendere quel brescianini che abbiamo regalato l'anno scorso e che gioca proprio in quel ruolo tra l'altro su cui abbiamo il 50 per cento della rivendita quindi lo pagheremo metà prezzo e ci mettiamo lì un altro italiano giovane frutto del nostro del nostro impegno dell'impegno dei giovanini del milan e insomma brescianini liberali e camarda e tanti saluti alle zazza trattative e alle zazza barzellette forza milan sempre comunque ditemi cosa ne pensate nei commenti e se vi è piaciuto il video mi raccomando un like e iscrivetevi a dopo e a domani a seconda delle notizie che ci saranno